Mino Borracino, consigliere regionale di sinistra italiana, liberi e uguali. Beh, come dire, fuori dai denti, senza parlare in politichese, cosa ci dice circa una sua possibile entrata nella giunta regionale? Beh, è ovvio che è nota la nostra opposizione al Presidente Emiliano in questi due anni, sebbene da circa 5-6 mesi in maniera ufficiale in Consiglio regionale, ma anche prima sulla vicenda del piano del riordino ospedaliero, su temi che noi non abbiamo condiviso. Parlo della sanità, parlo dei temi dell'ambiente, parlo dei temi del lavoro, della formazione professionale e altri. Rispetto a questo, se ci dovesse essere offerta la possibilità di poter incidere, e lo spiego chiaramente, ad esempio la nostra battaglia sull'aeroporto di Grottaglie, dove il Presidente Emiliano dice di essere d'accordo, se su questa cosa dovesse esserci l'ok a ragionare e a provare davvero ad aprire ai voli passeggeri, per un arricchimento non soltanto per la provincia ionica, ma per l'intera offerta che noi daremmo dal punto di vista turistico e commerciale alla nostra regione, io sono pronto a confrontarmi. Se ci dovesse essere data la disponibilità a rimodulare la riorganizzazione dei pronto soccorso dei reparti chiusi nella sanità, lo dico in maniera molto chiara, se dovesse esserci la possibilità di riaprire il pronto soccorso dell'ospedale di Grottaglie o il pronto soccorso dell'ospedale Moscati, ma nello stesso tempo di rivedere anche quello che accade a Casarano, che accade a Putignano, che accade per la localizzazione dell'ospedale di primo livello del nord barese, dove noi pensiamo che Molfetta sia prioritario, noi riteniamo che questa cosa possa essere prioritario rispetto a queste scelte, cioè nel senso che non ci tireremo indietro ad un confronto. Ci tengo a ribadire purtuttavia che ad oggi non c'è nulla, ad oggi io non ho incontrato il Presidente Emiliano, ad oggi io non ho incontrato nessuno dello staff, sono voci che circolano già da qualche settimana per la verità. Noi, ripeto, non siamo votati all'opposizione per forza di cose, noi stiamo all'opposizione perché alcune cose non sono state ascoltate rispetto alle scelte generali di politica. Se queste decisioni dovessero essere invece incontrare il favore del Presidente, ma con un documento scritto, noi riteniamo di essere disponibili al confronto e a poter ragionare, non necessariamente con l'ingresso in Giunta, anche rientrando in maggioranza per risolvere questi problemi. Tornando al discorso della Giunta, oltretutto il territorio tarantino non ha un assessore, e quindi, viste le criticità di Taranto, una rappresentanza di un tarantino in Giunta sarebbe opportuna? Guardi, non voglio fare il benaltrista, però tutto sommato penso che si possa incidere bene anche sulle scelte della provincia di Taranto, non necessariamente stando in Giunta e non necessariamente avendo un assessore tarantino. Lo dico perché da tempo si parla sempre della necessità di avere un assessore tarantino in Giunta, se poi l'assessore tarantino non fa delle politiche adeguate, non soltanto per Taranto, perché l'assessore regionale è di tutta la Puglia, ma per l'intera regione, io ritengo che forse è meglio non averlo l'assessore. Detto questo, lo ribadisco ancora una volta, io non mi sottraggo ad un confronto se parliamo dei temi sui quali noi in questi anni e mesi e anche dalla vostra emittente televisiva ci avete seguito tante volte, pronti al confronto per rivedere quei temi, a partire, ripeto, dalla sanità che è il bene prioritario di tutti quanti i cittadini pugliesi.